Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio numero 30 signori Ebbene si, per 30 giorni siamo riusciti a far uscire sempre un episodio ogni giorno per un mese signori Traguardi importanti, traguardi importanti considerando che io non ero così costante da un bel po' di tempo Vi ringrazio signori per tutti i like, per tutti i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che dà dalla serie Vi ricordo di iscrivervi al canale, che così vediamo di raggiungere i 2000 iscritti il prima possibile Cosa facciamo oggi signori, visto il trentesimo episodio e l'episodio speciale? Come potete vedere abbiamo fatto 42 livelli signori 42 livelli fatti con la farm di Skeletrine, che funziona abbastanza bene Prossimamente dovremo anche andare a abbellire tutto questo roller cast, signori, questa montagna russa Vedremo di fare un qualcosa di più normale, non del legno che vola, ma questo in un altro episodio Oggi è il trentesimo, dobbiamo fare qualcosa di particolare, signori Oggi dobbiamo incantare qualcosa, decisamente sì, decisamente sì perché voglio un piccone con fortuna Che sia di diamante o che sia di ferro, mi sta bene tutto, l'importante è che sia con fortuna 3 Recuperare tutti i diamanti che abbiamo in giro per il mondo disseminati E cercare di fare anche un'armatura in diamante, signori Magari non sarà subito incantata, però vediamo cosa ne esce fuori Allora, per prima cosa io direi di potenziare la nostra zona librerie Ovvero, come la facciamo? Prendiamo, allora, prendiamo tanta carta, prendiamo le pelli Figlie di Apollo Allora, mi serve una crafting table Che è nero, non ho crafting table in giro per il mondo Ne ho solamente una a casa e questa cosa non va per niente bene Allora, facciamo, facciamo della carta, signori Perfetto Dopodiché facciamo, vediamo quanti libri riusciamo a fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Già sono 12 librerie No, sono 4 3 per 4, 12, 4, 4 Vediamo con 4 intanto come va Intanto dovremmo anche ricoverare un po' di legno Perché non abbiamo più nemmeno l'odore del legno Prendiamo questo, anzi no, prendiamo questo di qua Che ne abbiamo abbondante e aiosa Andiamo qui, signori, crafting table Vai di libreria Dai così, quante ne possiamo farne? 4 È matematico, ne potevi fare 4 L'avevi già capito da solo Cerchiamo di, vediamo qua se riusciamo a potenziare un attino queste zone qua Quante me ne mancano a me? Allora, intanto ne mettiamo una qui Una qui, una qui E una qui Ok E ne mancano giusto 3 Scusa, 3 le possiamo fare Mamma mia, mi sei girato il mostro di colpo 3 sarebbero 9 libri Dai, 9 libri li possiamo fare, no? Dimmi di sì Sì, precisi, precisi, signori 9 libri Queste le sposte di qua Qua scrive nuovamente librerie Ne serve 1, 2 e 3 Perfetto, signori Così abbiamo il quadro completo Dovremmo riuscire a fare anche però degli altri libri Che ci possono servire per avere altri tipi di incantesimi Facciamo ne 7, va bene Però a sto giro ne abbiamo 7 No, ne abbiamo 8, signori Ne abbiamo 8 Porca di una paletta ambriaca 8 libri Perfetto Allora Calma e sangue freddo Non dobbiamo andare nel pallone Un libro qui Una libreria qui Una libreria qui Perfetto Ora dovremmo avere il massimo degli incantesimi Che possiamo riuscire a ottenere Cosa interessa a noi? Non interessa Interesserebbe intanto un bell'arco con infiniti Che non abbiamo Ok Perfetto Un piccone con fortuna Efficienza, efficienza e indistruttibilità Che non abbiamo manco questo Allora Mettiamo un bel libretto E vediamo Efficienza Protezione delle esplosioni Fortuna 2 Allora io fortuna 2, signori Me lo prendo molto volentieri Perché se poi dovessimo riuscire a trovare Un altro fortuna 2 La situazione si potrebbe fare interessante Allora io un bel fortuna 2 Intanto un libro Me lo ciappo Zitti zitti Me lo ciappo Dice un livello 3 E E uno spreco Forse è un po' uno spreco Un libro Efficienza 3 Efficienza 2 Fortuna Vabbè andiamo di efficienza 1 Dai Efficienza 1 Aggiudicato Sì E' stato un po' uno spreco Però va bene Vai con l'arco Potenza Potenza 2 Infinità Signori Visto? Tanto facile Veloce Indolore Vediamo Attenzione Ci sono i puntini Ci sono i puntini Quindi infinità Lo becchiamo con Indistruttibilità 3 Mi va di lusso Signori Mi va di lusso Vediamo Questo piccone Efficienza 2 Indistruttibilità Indistruttibilità 3 No No Indistruttibilità 3 Sarebbe buono Ma non Potenza Perforazione Efficienza Potenza Potenza 1 Potenza 1 Potremmo metterlo con l'arco Potenza 1 Perforazione Efficienza 3 Anche efficienza 3 Non è male però E però se ci giochiamo tutti i livelli così Dai andiamo di potenza 1 Dai Potenza 1 Dai Via Via Veloce Vai con questo piccone Vediamo se Becchiamo Indistruttibilità Fortuna 1 Efficienza 4 E tanta roba Signori Efficienza 4 E tanta roba Aspettate un attimo Io ce l'ho un piccone di diamante Con efficienza 4 Se noi dobbiamo fare Il passo avanti Signori Quel piccone Va incantato in maniera giusta Che non c'è niente Se noi dobbiamo iniziare A farci gli strumenti Un'efficienza 4 Sul piccone Ci svolta Ci svolta tanto Signori Dai così Mettilo qui E dammi un bellissimo Efficienza 4 Fortuna 1 Efficienza 4 Sbam Indistruttibilità 3 Efficienza 4 Questo è buono Il nostro nuovo piccone Signori Vediamo se riusciamo a beccar fortuna Efficienza 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 4 No 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 Mettiamo il libretto Il libretto mi porta Contro al colpo Flagello E protezione 3 Niente Andiamo con contro al colpo Stiamo facendo una serie di libri Vediamo se becchiamo Ovviamente a fortuna Con questo Indistruttibilità Fortuna 2 Indistruttibilità 3 Avevamo quel fortuna 2 Di prima Era tanta roba Vediamo se magari Lo becchiamo Con un libro Con un libro Protezione Efficienza E spine Allora signori Io intanto Ho qua il fortuna 2 E ce lo metto Per non sapere Nell'eggere Nell'eggere Io intanto Ho un fortuna 2 Sul piccone Voi state dicendo Ma l'hai messo Nel piccone di ferro Hai sbagliato No signori Affilatezza Potenza 4 Mamma mia Questa è tanta roba Potenza 4 E tanta roba Sono 3 livelli E io me lo piglio Signore Lo mettiamo nell'arco Potenza 4 Infinità Indistruttibilità 3 Diventa Un'arma Da distruzione di massa Da distruzione di massa Non va bene Va bene Va bene Ha giudicato Questo lo mettiamo ora Nell'arco Allora aspettate un attimo Questo lo dobbiamo mettere Nell'arco Questi li mettiamo qui Per ora che non servono Potenza 1 Efficienza 1 Fiamma Fiamma non possiamo Metterlo nell'arco Perché Mi Si O metto O metto Infinità O metto Efficienza Signore Breve pausa Vado a recuperare Un altro poco Cosa cazzate Lo sto facendo Devo semplicemente Posare La pelle Qui Perfetto E i lapislazzoli Qui Vabbè che i lapislazzoli Mi possono Continuare a servire Anche dopo Va bene Signore Devo andare a recuperare A meno che non trovo Aspettate Vediamo Se il colpo di fortuna Può essere che mi esce Un fortuna 2 Così Perché sarebbe interessante Un fortuna 2 Protezione Respirazione 1 E tanta roba Indistruttibilità Proviamo Vabbè Protezione 1 Vediamo se riusciamo A beccare Proviamo Ci proviamo Vediamo Potenza Perforazione Fragile Al troppo Di niente Signori Proviamo Ad andare ancora A recuperare Qualche bel livelletto Tanto Sta caldando la notte Quindi Breve pausa Signori Anche perché Devo recuperare Le frecce Se non Recuperiamo le frecce Non posso Utilizzare L'arco E questa cosa Non va per niente Bene E si Signori Dobbiamo per forza Trovare fortuna 3 Perché In questo episodio Speciale Trentesimo Episodio Di questa serie Sul canale Dobbiamo andare A recuperare I diamanti Signori I diamanti Per forza Per forza Quindi Facciamo un poco Di Di situazioni Strane Di situazioni Strane Ok Signori Dopo aver Ammazzato Onde e onde Di scheletri Siamo riusciti A tornare A livello 34 Che non è Chissà Che cosa Però 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 A noi Ci interessa Trovare Semplicemente Un piccone Con fortuna 2 Signori Un piccone Con fortuna 2 E riuscire Ad unire I due picconi Che abbiamo Allora Intanto Facciamo un altro Piccone di ferro Così Siamo pronti E carichi Per tentare La sorte Abbiamo Più di un colpo Più di un colpo E non abbiamo paura Di provarci No La torcia Lì Non ci sta Allora Iniziamo con Prove il piccone Dai così Dammi fortuna 2 Efficienza Indistruttibilità Indistruttibilità 3 Mi dai 2 Indistruttibilità 3 Ma quanto sei stronzo Da 1 a 10 Allora Spariamoci il primo Con un libro Signori Nel libro Cosa mi dai Potenza 1 Perforazione 2 Fragile La troppo Di dammi potenza 1 Che se non sbaglio Un potenza 1 Già ce l'abbiamo Proviamo prima Con il libro Così lo confondiamo Perforazione Potenza 1 Saccheggio 3 Cavolo Il looting Sarebbe interessante Il looting Sarebbe interessante Ma No No Noi abbiamo Un obiettivo E un obiettivo Dobbiamo raggiungere Sì Però se sei scemo Non ci possiamo fare nulla Noi Allora Ritrasformiamo tutti questi Così Dai così Mi serve Fortuna 2 Dai Lo sento Mi devi dare un fortuna Efficienza 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 4 No No Non posso nemmeno Incantarla Perché se no Mi perdo la potenza Perforazione 1 Va bene Non è un problema Dai così Dai 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 Indistruttibilità Indistruttibilità Efficienza Non ci vuole tornare Dalli scheletri Signori Efficienza Anatema E impalamento Efficienza 1 Abbiamo ancora Altri due tentativi Signori Altri due tentativi Efficienza Indistruttibilità Indistruttibilità Dai ma mi sta Prendo per il culo Mi sta prendendo Contraccolpo Indistruttibilità E respirazione 2 Ma porca miseria Contraccolpo Contraccolpo Ultimo tentativo Indistruttibilità Fortuna 1 Fortuna 1 E tocco di velluto Fortuna 1 Fortuna Cosa ci faccio Con Fortuna 1 Non c'ho più Manco libri Ho finito pure i libri Ma stiamo scherzando Ho finito pure i libri Va bene signori Altro taglio Altro taglio E dobbiamo 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 trovarlo Per forza Dobbiamo trovarlo Per forza Fortuna 2 Non Non ce ne andiamo di qua Se non troviamo Fortuna 2 Signori Non chiudiamo Questo video Che tra l'altro Per voi Starà durando Pochissimo Per me È un'infinità Praticamente Però va bene Però va bene Riusciremo a trovare Riusciremo a trovare Fortuna 2 Ci riusciremo Ci riusciremo Signori Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Fortuna 3 Fortuna 3 Signori Sì 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 Livello 30 L'abbiamo trovato E dai E così Fortuna 3 Indistruttibilità 3 Efficienza 4 Mamma che bestia Di Questo invece Indistruttibilità 3 Efficienza Che bestia Di piccone Che abbiamo beccato Signori Allora facciamo Un attimino di ordine Intanto Possiamo tutti Sti libri Poi un giorno Capiremo con calma Questo È quello Con fortuna 2 Quindi direi Che lo possiamo Anche mettere qua I lapis d'azzo Li possiamo posare qua Questo lo mettiamo di qua Tutte ste frecce Non mi servono mai Nella vita Questo bisogna posarlo Cioè Devo sistemare un attimino L'inventario Signori Devo sistemare un attimino L'inventario Dopo che andiamo al recupero Di tutti i nostri diamantozzi Signori Andiamo a recuperare Tutti i nostri diamantozzi E ora si fa sul serio E ora si fa sul serio Aspettate Finisco di sistemare Questo Ce lo portiamo La carta non ci serve I libri Li potremmo posare Gli slab Li dobbiamo posare pure E li possiamo mettere qua Il legno ci serve Ste frecce Aramai Ce le portiamo dietro Dobbiamo recuperare Un po' di acqua Dobbiamo posare anche Se non sbaglio In questa di qua No Da questa parte di qua I libri Che non utilizziamo La carta La rimettiamo qui Invece Perfetto Ok signori Ora inizia il bello Del nostro Del nostro Del video Del trentesimo video Signori Intanto andiamo a recuperare I diamantozzi Come facciamo Quali sono i primi diamanti Che dobbiamo andare a recuperare Andiamo a recuperare I diamanti Che ci sono Prende vicino La zona Degli scheletri Degli scheletri Dai così Meno male che abbiamo trovato Sta a farlo signori Perché ci fa fare Tanti due punti Esperienza E siamo riusciti finalmente A ottenere un piccone Con fortuna Tre Tanta roba Tanta roba Ne abbiamo anche uno Con fortuna due Allora i primi diamanti Da prendere Sono questi Di qua Ne abbiamo visti Passare Preferisco scendere Con questo di qua Ci facciamo questo pezzettino Veloce veloce A piedi Piccone con fortuna Tre in mano Signori E caviamo giusto Quanti Bei diamantotti Ci iniziamo a portare a casa Intanto vediamo quanti sono Sono solamente due No Sono tre Sono tre Sono quattro Sono quattro Attenzione Iniziamo Uno Due Sono cinque Cinque diamanti Signori Sono sei diamanti Meno male che abbiamo preso Fortuna Tre Signori Meno male che ci sono portati A casa Fortuna tre Tu dove vuoi scappare L'abbiamo preso? Sì Vogliamo vedere quanti sono? No 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 Lo vediamo a fine Lo vediamo a fine A fine raccolta A fine raccolta Saliamo su E si parte Ritorniamo su signori Parlo un po' più piano Perché Forse dava un attimino Di fastidio ai vicini Quindi parliamo un pochino Più piano Adesso mi ha il tono di voce Dai Vediamo un attimino Di beccare gli altri diamanti Vediamo un attimino Di beccare gli altri diamanti Vai così veloce Vai così veloce Vai così veloce Siamo tornati L'attimente a casa E ora dobbiamo Scendere di qua Scendi 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 Bravissimo Scendi Scendi E andiamo Signori da qua Qua si va Allora qui Allora qui sono Allora qui sono semplicemente Se non sbaglio Qui sono Quattro 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 Quindi uno Due Tre Ho detto tre E ho detto quattro Bella così Bella Presi tutti Presi tutti Davanti Mi sembra che non ci dovrebbero essere altri E dall'altro lato E dall'altro lato della carreggiata Dall'altro ponticello Dall'altro lato Recuperiamo gli altri diamantozzi E a fine video Signori Vediamo quanti ne avremo ottenuti Leviamo questa reddizione Che non ci serve più a niente Allora Erano in fondo a questa strada Se non sbaglio Ho dovuto abbassare un attimino Il tono di voce Signori Perché Giustamente Davano un attimino Forse di fastidio Dai 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 Il piccone fortunato È importantissimo Anche per il ferro Sapete quanto ferro Riusciamo a recuperare Attenzione Qua sono Uno Due Tre Attenzione Uno Attenzione Due Attenzione Tre Signori Diamanti recuperati Vogliamo vedere quanti ne abbiamo presi Trentadue Trentadue Signori Spettacolo Possiamo farci tutta l'armatura In diamante Ce la possiamo fare tutta l'armatura in diamante Bellissimo Bellissimo E anche la spada Finalmente Signori E io Con questi diamantozzi in mano Festeggio il trentesimo episodio Un po' sofferto Un po' lungo da registrare Ma ce l'abbiamo fatta Signori Piccone fortuna 3 Piccone di diamante Incantato E trentadue diamanti in mano Signori Bella così Ci vediamo domani Per un prossimo appuntamento Ciao raga